Il corteo di oggi ha visto la partecipazione delle numerose associazioni presenti sul territorio. C'erano anche Confocommercio, Confartigianato, Confesorcenti, Casa Artigiani del Golfo di Gela. Gela sta subendo un danno enorme. Noi infatti abbiamo preteso che si chiamasse Vertenza Gela, non Vertenza Eni, perché è una vertenza che riguarda tutto il territorio. Il territorio non solo di Gela, ma anche dei paesi vicini. Noi ci siamo incontrati con tutte le associazioni datoriali, le associazioni sindacali. Abbiamo fatto quadrato dietro questa situazione e speriamo che chi ha le colpe, cioè in questo momento è ben individuato il Ministero dell'Ambiente, rilasci immediatamente le autorizzazioni che servono per poter iniziare la riconversione della raffineria. Perché diversamente la situazione diventerà drammatica, anche perché anche i nostri associati saranno costretti a licenziare il proprio personale. Siamo tutti qui a manifestare e a gridare con rabbia anni e anni di vacazio politico che abbiamo avuto. perché non si è saputo portare avanti una vertenza che poteva portare sviluppo al territorio. Oggi siamo qua per manifestare assieme ai lavoratori, perché vuoi o non vuoi, lo stabilimento è quello che fa il reddito a Gela, c'è poco da fare, perciò bisogna essere tutti combatti. Se falliscono le imprese, automaticamente gli operai, io non lo so che cosa facciano, quindi solidarietà agli operai, le imprese sono rappresentate, noi ci siamo, ma a questo punto io direi di togliere sia le sigle e tutto quanto, è l'urlo della città, dobbiamo salvare questa città. Rocco Fisci, rappresentante degli insediati della zona industriale. L'unica alternativa è avere dei risultati a livello nazionale e ritengo che oggi con tutta questa grande partecipazione mi auguro che qualche cosa si possa ottenere.